Cari amiche e cari amici, buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. Questa sera è venuta a trovarci Carmen Sofranio, coordinatrice politiche di genere della FNP CISL Piemonte. Come tutte le settimane in studio c'è anche il nostro esperto di previdenza Giorgio Melelli, che è pronto a rispondere alle vostre telefonate, quindi se volete chiamare vi ricordo il numero 011 95 75 798. Vi lascio però subito la parola per una comunicazione di servizio. Sì, giustamente come diceva Carmen, oramai credo che diventi un anticipo del pagamento delle pensioni per chi le percepisce alla posta, perché giovedì il 25 di novembre incominciano a pagare le pensioni sempre con lo stesso criterio, incominciano con A e B l'inizio del cognome e vanno avanti fino alla fine del mese. Per cui questo per evitare, come abbiamo sempre detto, gli assembramenti. mi piace però ricordare anche che c'è sempre per le pensioni e che non hanno qualcuno che lo può fare, c'è l'arma dei carabinieri che ha a disposizione per andare a prendere la pensione per chi non potesse recarsi all'ufficio postale. Basta chiamare una caserma dei carabinieri e sarete soddisfatti. Direi che questo è una cosa, siamo contenti di ripeterlo, per i carabinieri è un'arma che comunque è in aiuto alla cittadinanza. Assolutamente, quindi gli over 75 che ne avessero bisogno possono fare questa richiesta direttamente alla caserma a loro più vicina. Abbiamo detto 25 novembre, 25 novembre è anche un'altra data importante perché come ogni anno ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ed è per questo che abbiamo invitato la nostra ospite per parlarci delle varie iniziative che sono state organizzate in tutti i territori dalla FNP del Piemonte, ma cominciamo allora a fare un discorso un pochino più in generale su questa giornata. Chiederei alla regia di proporci il manifesto che la CISL ha deciso di dedicare quest'anno alla giornata del 25 novembre, un'immagine secondo me molto evocativa. Prego Carmen. Allora, quest'anno 25 novembre Giorgio ci ha ricordato che c'è l'anticipo del pagamento delle pensioni, però c'è anche questa ricorrenza. Io prima di parlare delle nostre iniziative mi soffermerei un pochino a parlare di che cosa sono queste violenze di genere. Ormai si rischia per noi di essere ripetitivi, però è molto importante parlarne perché ormai è di stretta attualità, drammatica attualità. Abbiamo donne vittime di femminicidio, una ogni 72 ore. Ormai ce lo ripetono anche i giornali in continuazione, però è così. Tutti i giorni o quasi ci sono episodi di violenza o femminicidi. E sempre più brutti, sempre più truculenti. Il termine femminicidio a me non piace. Perché? Perché in realtà chi ammazza la compagna, la moglie, la madre dei figli, molto spesso uccide anche i figli, i figli suoi propri, i figli di lei. A volte poi si suicida. Quindi è un dramma, sfatiamo, non è un dramma delle donne. È un vero dramma che coinvolge tutta la società. Io riesco a immaginare a malapena, poi sappiamo che ci sono anche dei percorsi, ma siamo sempre insufficienti. Gli orfani delle vittime, delle donne uccise dal marito, ma anche i figli dell'omicida, i genitori dell'omicida, i genitori dell'uccisa. È un dramma che coinvolge veramente tutta la società e di cui non si può non parlare. Ed è in continuo aumento. Pare che di fatti che il lockdown, questo isolamento in casa abbia incrementato ancora queste non pare. I numeri dicono così. Anche le richieste di aiuto ai numeri dell'antiviolenza sono raddoppiate rispetto al 2019. Questo può voler significare che sono raddoppiate, in effetti secondo me sono aumentate le violenze domestiche proprio a causa della segregazione in casa. Può anche, vogliamo essere positivi, significare che le donne stanno prendendo coraggio e denunciando un pochino di più, che hanno preso un po' di coscienza. Speriamo. Una definizione dell'agenzia ONU su questi femminicidi la definisce pandemia ombra, perché in effetti abbiamo, oltre alle donne che muoiono in modo violento, ammazzate, violenza domestica, abusi fisici, psicologici, convivenze forzate e spesso i maltrattamenti, cosa grave, avvengono in presenza dei figli che assistono a questi maltrattamenti. Quindi è un dramma sociale, è un dramma sociale che deve per forza di cose vederci coinvolti non solo come donne, ma come genitori che ha figli, nonni per i nipoti, le istituzioni scolastiche, ma anche la legislazione, i legislatori, i centri antiviolenza, tutti siamo implicati. Poi do solo un dato, molto, le donne migranti rifugiate. Qui le statistiche sono sempre difficili da ottenere, da avere a seconda delle associazioni, però l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, quindi non associazione qualunque, ha pubblicato che quasi tutte hanno subito violenze durante il viaggio o nei paesi di transito, ma anche in Italia. Quindi queste donne sono merce, non sono neanche persone. Questo è molto brutto, occorre anche qui più visibilità, più appoggio istituzionale, più investimenti. Bisogna anche ricordare che spesso le operatrici nei centri di accoglienza sono volontarie, non stipendiate, quindi dovremmo investire di più in questo senso. Poi, se mi è ancora consentito, parlerei anche un attimo di un altro fatto che ci riguarda, un problema che ci riguarda da vicino, perché noi siamo i pensionati della CISL, le donne anziane. Anche qui le statistiche ci ingannano, perché spesso le donne anziane non denunciano, però le vittime ci sono maltrattamenti, violenza fisica tra le mura domestiche, proprio dalle persone che si prendono cura di loro e che sono familiari o badanti, persone che li dovrebbero curare. Oltre ai maltrattamenti ci sono anche le truffe, truffe ai fini, chiaramente, di carpire il patrimonio dell'anziano. Anche qui ogni giorno si sprecano le notizie dei media. Noi leggiamo spesso, anche sul nostro quotidiano, la stampa di persone, professori universitari, persone che hanno fatto anche, sono persone che hanno avuto una rilevanza nella cultura della società, al quale viene affidato un amministratore di sostegno per aiutarli, per non farli cadere in queste truffe, in questi raggiri. Perché pur essendo persone intelligenti, non è che qui si parli di mancanza di intelligenza, si diventa fragili da anziani. E quindi più soggetti a cedere, a elargire, dare fondi a queste persone che ti dimostrano un po' di gentilezza. Anche qui però qualche numero ce l'abbiamo. L'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica, ci dice che 2,5 milioni di italiane, over 65, sono vittime di abusi, violenze e truffe. I maltrattamenti nei loro confronti sono aumentate del 150% in 10 anni. Anche questo è significativo. Può darsi che anche qui ci sia solo una maggior propensione alla denuncia, però io penso che in effetti poi in tempi di crisi economica il patrimonio dell'anziano, ahimè, diventa molto appetibile. Perché pensiamoci. E quindi bisogna tenere alta l'attenzione su questi piedi. Tenere alta l'attenzione. Secondo me anche noi nei confronti, nel nostro piccolo, nel nostro territorio, con i nostri amici, se vediamo che qualcuno, non isolarci, se vediamo che qualcuno dei nostri amici sta cadendo in queste trappole, intervenire, aiutarlo. Anche nelle nostre sedi io so che ci sono gli operatori, gli operatori che sono sempre disponibili anche ad ascoltare, a segnalare. E' importante. Torniamo su questo fra pochissimo perché adesso abbiamo già in linea la prima telefonata di questa sera e allora sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Da Biega. Sì, prego, ci dica pure. Vorrei parlare con Giorgio Melevi. La sta ascoltando, prego. Va bene. Buonasera. 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 Da Biega. La mia città di origine. Vorrei parlare con il signor Giorgio Melevi. La sta ascoltando, ci faccia pure la sua domanda. Mi dica. Va bene, volevo sapere, mia moglie a marzo fa 67 anni. Sì. Eh, vorrei sapere, mia moglie a marzo fa 67 anni. Può fare la domanda di pensione senza contributi? No. Senza contributi no. Può solo fare la domanda di assegno sociale, però questo dipende dal reddito che ha lei. Lei è pensionato? Sì, io sono pensionato. Quanto prende di pensione lei? Eh, 1.2003. La moglie non ha diritto a nulla? Niente. No. Perché l'assegno sociale non può averlo, la pensione dei contributi no, perché non ha contributi, per cui purtroppo rimarrà sempre senza pensione. Eh sì, perché c'entra il reddito familiare. Esatto. La ringraziamo e la salutiamo. Buonasera, arrivederci. Va bene, grazie, arrivederci. Buonasera, buonasera, questo è un dato incontrovertibile, cioè il problema è la pensione o contributiva, allora ci vogliono i 20 anni di contributi, o assistenziale, l'assegno sociale, però dipende molto dal reddito familiare, il marito non deve superare gli 11.600 euro, l'ordi, se una donna non ha contributi, il marito lavorava, non prendeva tantissimo, ma prendeva un po', per cui è quasi impossibile che riesca a prendere l'assegno sociale, per la pensione del marito, 1.200 puliti vuol dire 1.400, 1.450 lordi, siamo sui 20.000 euro l'anno. Abbiamo subito un'altra telefonata in linea, pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Sono Massimo, telefono da Torino. Prego, ci dica. E volevo parlare col signor Giorgio. Buonasera. Ci dica. Senta, io ho 30 anni di contributi, ho 64 anni e non riesco a capire quando andrò in pensione. Ha 67 anni? 64. No, 67 anni. Quando compirà 67? Quando compirà 67 anni, con 30 anni di contributi, andrà in pensione di vecchiaia, cioè l'età massima. Io adesso sto ancora lavorando. Allora continuerà a maturare i contributi. Perfetto, continui a lavorare fino a 67 anni. Ecco, quindi non c'è… No, 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 no. Non posso andare prima, no? No, no. Purtroppo no. Ma la pensione sarà calcolata anche con i contributi versati? A tutti. A questo non ci piove. Sia quelli prima del 95 col sistema retributivo, sia quelli dopo il 95 col sistema contributivo. Sì, sì, non ne perde uno, assolutamente. Ho capito. La ringrazio. Bego, buonasera. Buona serata, buona serata. Grazie a lei, continui a seguirci. E sì, anche perché 60 anni non bastano neanche per le altre forme di pensione che per No, l'unica forma di pensione sarebbe l'ape sociale, perché lui ha 64 anni, per cui ha superato i 63, ha 30 anni di contributi, però lì in televisione è difficile capire, vedere la tabella dei lavori, per cui capire, ecco, però secondo me, ecco, un consiglio che possiamo dargli, la domanda che ha fatto a me, vada a farla a un patronato, se è di Torino, vai in via madama Cristina 50, fa la domanda a loro, quella che ha fatto a me, e magari loro riescono a capire se ha eventualmente diritto all'ape sociale, che siamo sicuri che viene prorogata, per cui non c'è problema. Benissimo, grazie Melelli anche per questo completamento. Prima, mentre parlavamo con Carmen Sofragno, la regia ci proponeva anche la locandina che è proprio uscita oggi, che il coordinamento politiche di genere dell'FNP nazionale ha promosso proprio in occasione della giornata del 25 novembre. anche con una frase di Elie Wiesel, che ricorda proprio come sia fondamentale tenere le luci accese, i riflettori accesi su questo tema, perché non è un tema che riguarda pochi, ma ci riguarda tutti, riguarda tutta la società, e quindi è importante anche il ruolo di supporto che il sindacato, con la sua presenza capillare sul territorio, può, con discrezione, ma con una presenza effettiva a dare a chi si trova in difficoltà. Certo, come detto prima, le violenze sono qualcosa che non riguarda mai una persona sola, riguarda un'intera famiglia, penso due coinvolgono la società intera, ci devono vedere per forza impegnati in prima persona. Abbiamo avuto, di fatti abbiamo fatto, poi ne parleremo, tante iniziative, però vorrei ricordare Stefania, subito, che il nostro segretario generale FNP del Piemonte... Ecco, intanto stiamo rivedendo la locandina, il silenzio aiuta il carnefice, ecco, è molto significativo. Sì, significativo perché non dobbiamo mai stancarci di aiutare le donne a denunciare, perché più stanno in silenzio e più fanno il gioco dei loro carmetici. E quindi è importantissimo anche questo appello... Questo appello che Bizzarri, Giorgio Bizzarri, il nostro segretario generale, ha proposto per gli uomini, per richiamare proprio l'attenzione anche degli uomini su questo problema, che non è un problema solo delle donne, li ha invitati ad impegnarsi quindi nella propria famiglia culturalmente, eccetera, ma anche ad assumere un impegno pubblico, proprio perché è importante non spegnere i riflettori, come hai detto tu Stefania, ed è importante agire sulla società. Noi come sindacato, indubbiamente, oltre alla presenza capillare, alla forma di aiuto che possiamo dare, non dimentichiamoci che siamo anche le parti sociali. Come parti sociali quindi è il nostro compito, ecco che passano le altre locandine, poi le commenteremo. Sì, certo, certo, le riproponiamo dopo. Le riproporremo tutte. È importante che ci impegniamo anche con le istituzioni, che ci impegniamo con il legislatore, con il governo, perché alcuni passi sono stati fatti, poi ne parliamo anche codice rosso, codice rosa, il reddito di libertà, però continuano sempre a non bastare. Noi continuiamo a vedere questo fenomeno in aumento, quindi vuol dire che questi interventi non sono sufficienti, perché non viene, non solo non si esaurisce il problema, ma aumenta il problema. Quindi dobbiamo fare di più tutti insieme, assolutamente. Abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Buonasera, sono Stefano D'Acunio. Sì, prego, ci dica. Voglio parlare con il signor Malelli. Buonasera. Per mia moglie. Mia moglie ha 59 anni, no? Sì. E ha 34, 6 mesi di contributi. Può andare in pensione o no? No, assolutamente no. Ah no? Purtroppo sua moglie può andare... Beh, a meno che non faccia l'opzione donna. Ma non è anche perché servono... No, 35, quindi... Ah, 35. ...convenzione donna lì. Eh, quanti anni ha di contributi la signora? Eh, 34 anni e 6 mesi. Non può pagare 6 mesi e andare su 35. Sua moglie lavora? No, è casalinga, io sono pensionato. Allora sì, allora vale la pena fare la domanda dei versamenti volontari. Sì. Pagare i 6 mesi che mancano e chiedere l'opzione donna. Ecco. Però attenzione, l'opzione donna, sua moglie mi ha detto che ha 59 anni. Sì. Quando gli ha fatti 59? E 52 è il 22 di ottobre. Sì, allora come ha pagato i 6 mesi può andare in pensione il mese dopo. Per cui le consiglio di fare quell'operazione lì. L'operazione di riempimento dei contributi per arrivare ai 35 anni. E poi la domanda dell'opzione. Ecco, fare i 35... Esatto. Raggiunti i contributi necessari può fare la domanda per l'opzione donna. Sapendo che l'opzione donna è una pensione bassa. Ecco, bassa. Perché viene calcolata tutta col sistema contributivo. Però la signora è giovane quindi. Però visto che lei è pensionato, la moglie è disoccupata, credo che a questo punto qui anche qualche centinaio di euro fanno comodo. Ecco. Perché io sono anche invalido. Eh, fra l'altro se serve anche quello direi che fa bene fare quell'operazione lì. Eh, eh, eh. Scusi, e l'ISEE? Quando si può fare l'ISEE? Domanda di ISEE? No, allora. Il ministro vi fa la domanda parlo a tutti quelli che ci ascoltano. L'ISEE scade al 31-12-2021. Quello fatto durante quest'anno. Dal 15 di gennaio si può fare l'ISEE nuovo portando la documentazione relativa al 2020. Per cui il saldo bancario del 2020, tutte le cose del 2020. Però dopo il 10-12 di gennaio. Ah, ecco, ecco. A metà gennaio, diciamo. Va bene? Va bene, grazie. Prego. La ringraziamo e la salutiamo. Arrivederci, buonasera. 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 Ecco, sì. Allora, parlavamo prima delle varie misure che sono state messe in campo. Il codice rosso ormai è già da qualche anno che ne parliamo. L'ultimo però è proprio il reddito per le donne vittime di violenza. Il reddito, cosiddetto reddito di libertà, è molto interessante, è stato messo in campo da poco. In pratica il decreto è del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020, quindi è giovane. E in pratica è destinato alle donne vittime di violenza con figli o senza figli, ma che siano state seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni. L'ammontare è di circa 400 euro mensili. Fino a un massimo di 12 mensilità. Questo è un fatto molto buono. Se andiamo però a vedere, c'erano molte critiche. Perché molte volte però è proprio anche la dipendenza economica che fa sì che le donne non trovino il coraggio di denunciare, di allontanarsi. Quindi offre uno spunto. Il bicchiere mezzo vuoto però, diciamo, in questo caso, è il finanziamento. Il finanziamento non è stato molto poderoso e non riesce a raggiungere tutto. In pratica si parla di 3 milioni di euro in tutto. Poi c'è l'altra, molti criticano. Secondo me è giusto dare questo reddito a chi si è rivolto ai centri di violenza che è stato seguito, che ha certificato. Perché sono percorsi sicuri. Non c'è chi si inventa qualcosa all'ultimo momento. Che magari sono ulteriori occasioni di sfruttare situazioni già difficili, delicate. Certo, sappiamo bene che poi noi... Però alcune critiche, giornali centri, sono critici nei confronti di PCM perché lo limita alle donne che sono state seguite dai centri antiviolenza. E non ed esclude le altre. A mio modesto parere personale è giusto seguire le vie istituzionali. Quindi chi si è rivolto a denunciato, si è rivolto ai centri antiviolenza, ha seguito tutta la prassi, è giusto che venga aiutato. Assolutamente, speriamo che anche questo possa essere un incentivo per aiutare le donne a denunciare, ad uscire allo scoperto. E ad affidarsi alle reti che comunque sono presenti sul territorio e che possono veramente dare una mano. essere presente sul territorio e lo Stato in questo modo dice se hai avuto il coraggio di denunciare ti do una mano. Questo mi sembra giusto. Il Codice Rosso è presente da un po', anche lì ricordiamo, ho partecipato a parecchie riunioni, prima del Covid però. Sì, prima della pandemia. Prima della pandemia e con giudici non tutti giudicano così buono. Cioè in campo giudiziario dicono che in effetti questo, perché il Codice Rosso prevede una velocizzazione delle procedure, una denuncia anche solo orale, il magistrato deve venire avvisato prima. In ambito, adesso non posso addentrarmi così tanto, perché in ambito però, delle giudizie dicono sì, però noi agivamo così anche prima, ci sono dei tempi da rispettare, ci sono ancora delle critiche. Però io metterei in evidenza Stefania. Sì, e su questo però ci dobbiamo fermare perché dobbiamo lasciare spazio alla pubblicità, però riprendiamo subito appena ritorniamo in studio, quindi rimanete con noi. Eccoci di nuovo in studio, stavamo parlando delle novità in materia legislativa. Certo Stefania, stavamo parlando del famoso Codice Rosso, famoso insomma, più o meno, che se ne è parlato molto. E mi premeva dire che in realtà il Codice Rosso ha inserito anche, fatto inserire nel Codice Penale, dei reati che prima non c'erano. Tanto per chiarire, diciamo uno a caso, però importante. Il reato della diffusione delle cosiddette foto intime. Noi sappiamo che ci sono stati dei casi di ragazze che si sono suicidate, ma abbiamo visto anche casi un po' meno drammatici, ma comunque gravi, che sconvolgono la vita di una persona, anche in territorio piemontese, di una maestra, poi è passato un po' di tempo, eccetera, una maestra che aveva delle foto intime con il fidanzato, si sono lasciati, l'ex ha diffuso queste foto, negli spogliatoidi di un... Sì, con gli amici del calcio. ...di amici del calcetto, addirittura. Questa è arrivata alla mamma di una bambina, che le mamme si sono rivolte alla direttrice didattica della scuola, e la maestra è stata licenziata. Questo mi ha colpito molto, questo fatto, perché anche noi donne siamo evidentemente un po' succubi di questa... proprio di questa valutazione errata delle realtà. Le donne, in questo caso, sono vittime. Assolutamente. No, infatti poi c'è stata una... La maestra si è appellata, cioè ha fatto ricorso... Ha sollevato il caso, è chiaro. Ha fatto ricorso, la preside è stata condannata. Noi donne dobbiamo convincere che siamo vittime se subiamo, innanzitutto dovremmo essere molto prudenti con le foto. Questo alle ragazze, secondo me, bisognerebbe proprio inculcarlo da giovani. Poi comunque, se subiamo un fatto del genere, noi siamo le vittime, non dobbiamo essere giudicate male per quelle foto. Assolutamente. Perché c'è un reato previsto. È una violazione, certo, della privacy. È una violazione della privacy della persona. E poi della persona, quando si diffonde, certo, contro la volontà. Quindi il Codice Rosso ha avuto comunque questo grosso pregio, è stata una buona legge da questo punto di vista. Di introdurre anche questi nuovi reati, che prima non esistevano e quindi invece... Quando non c'erano i telefonini, Stefania, in effetti. Noi che siamo anziani, una volta non avevamo i telefonini, tutto sommato. La tecnologia si evolve, purtroppo, portando anche a nuovi reati, che invece vanno assolutamente condannati e combattuti. Abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Chiamo da chi è? Sono la signora Angela, vorrei fare con il signor Mirelli. Sì, prego. Buonasera. Buonasera, signor Mirelli. Sento, voglio fare una domanda. Ho una mia cugina, no, che è in varia del 75%, 75-78. Vi è mancata la mamma, poco fa. Ha diritto alla riversibilità? Mi spiace, signora. No. Perché per avere diritto alla riversibilità dei genitori bisogna essere inabili, l'inabilità prevede il 100% e a carico del genitore, per cui sua cugina non è né uno né l'altro. Lei era carico, ma aveva un'invalidità di 300 euro, mi sembra. No, ma il problema è che non era inabile, per cui per avere diritto alla riversibilità dei genitori bisogna per forza essere inabili, per cui deve avere il 100%, cosa che grazie a Dio lei non ha, perché avesse il 100% starebbe ancora più male, ecco. Sì, certo, è logico. Purtroppo non ha diritto, signora. Va bene, la ringrazio tanto, signor Mirelli, buonasera. Buonasera. La ringraziamo e la salutiamo. Ecco, veniamo allora alle iniziative che in tutti i territori i coordinamenti politiche di genere territoriali appunto della FNP hanno organizzato. Stefania, sono tanti, anche se quest'anno, come tu ben sai, perché sei anche tu nel giro dell'organizzazione dei congressi, coincidono con i nostri congressi territoriali, i congressi per noi sono molto importanti, perché è il massimo organo, il congresso, nel sindacato. Sì, purtroppo con la pandemia c'è stato un slittamento di date. Un slittamento di date, per cui coincide tutto, però pur con queste coincidenze di impegni, e anche quest'anno le iniziative sono state molte. Anche perché si è finalmente tornati in presenza dopo lo stop imposto l'anno scorso dalla pandemia. In presenza, qualcuno non si fida molto all'aperto, speriamo sempre che il meteo ci aiuti. Comunque sono molti. Prima ho visto scorrere delle locandine. Sì, certo, certo. Intanto poi la regia ce le propone, ma intanto... A Torino c'è un evento in presenza, in via Madama Cristina, 50, nella sede CISL FNP. Che però, se non erro, verrà anche trasmesso in videoconferenza, quindi per dare la possibilità a più persone di assistere. Verrà anche trasmesso in videoconferenza, grazie Stefania. E qui parleremo proprio contro della violenza, in generale, non diversi interventi. E qui il nostro segretario generale dell'FNP presenterà quell'appello di cui abbiamo già parlato. Poi abbiamo, sempre nel territorio tiemontese, a Cascinette di Ivrea, uno spettacolo presso un centro, credo sia tipo una sala, un teatro. Uno spettacolo con letture, riflessioni e musica. Dal titolo Nel futuro che vogliamo, la violenza delle donne fa parte del passato. Esatto, eccolo qui. E questo mi piace molto, è di buon augurio, che la violenza faccia parte del passato. Poi, adesso aspetto un attimo così vedo quale è quello che mi scorrono. No, vabbè, ma non importa. Vado avanti. Sì, 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 prego. A Pinerolo, il Pinerolo è sempre... Tanto man mano scorreranno tutte, quindi eccolo qua. Pinerolo ci sarà il 27 novembre, un corteo per le vie cittadine, per ricordare le donne vittime di violenza, non una di meno, è curato da noi con altre associazioni e altri sindacati. A Cascinevica, il 27, arrivoli il 28 novembre, quindi siamo qui. Sì, sì, siamo qua vicino alla sede di Prima Antenna. Molto vicini. Ci sarà il flash mob Io No, con la partecipazione, sarà anche un flash mob carino secondo me, con la partecipazione di uomini vestiti di scuro. Anche qui quindi il coinvolgimento degli uomini è importante. Quest'anno lo stiamo proprio cercando, per ricordare le donne vittime di violenza. Questo è il territorio torinese. Negli altri territori, diciamo che ad Alessandria partono... Sono già partiti oggi, no? Sono già partiti oggi con dei gazebo, dei gazebo in sei diverse località, e quindi curati anche lì da FNP, CISL, Anteas, quindi le nostre associazioni, tutti insieme, presentano un gazebo in cui fanno volantinaggio, parlano dell'evidenza contro le donne, regalano dei gadget e quindi anche lì in pratica tutto il territorio alessandrino. Poi invece il 3 di dicembre, io le date le ho qui, ma non sto lì da annoiarvi con le date, perché 23 novembre ha qui 24 Gavi, Casale, Monterrato, Tortona, Alessandria, Ovada. Alla sede dell'FNP troverà appunto il riferimento della propria zona. Ad Alessandria in presenza, una delle nostre sale, forse non sarà una delle nostre sale, forse stanno cambiando per cercare una sala più grande. Ah, perché c'è stata adesione, quindi... Sì, sì, per fortuna, molti partecipano. In collaborazione con la CISL, proprio la presentazione di un protocollo per il contrasto alla violenza, le varie forme di violenza sui luoghi di lavoro. L'evento è Toglimi le mani di dosso. Eccolo qua, vediamo la locandina. Eccolo qui, lo vediamo proprio molesti e discriminazioni sul lavoro. Verrà approfondito chiaramente con diversi interventi. Certo. Sì, la sala probabilmente non sarà quella, proprio perché abbiamo raccolto molte attesioni. Invece nell'Astigiano, ad Asti abbiamo il 25, quindi speriamo che il meteo sia clemente. Perché è un evento all'aperto. È un evento all'aperto, in piazza, all'aperto come per il flashmock che avevamo fatto per Tuteliamo gli Anziani, proprio davanti al nostro municipio e alla collegiata San Secondo, quindi nella piazza più importante di Asti. Una recita. Una recita, e qui abbiamo trovato per fortuna nostra una compagnia teatrale, gli Aslanti, che verranno a recitare e leggeranno loro. Perché secondo me leggere, far leggere da una persona che è capace e sa leggere rende molto di più. Assolutamente. Leggeranno storie, sono carine, sono storie di donne morte e ammazzate, però tratte dal libro di Serena Dandini, Ferite a morte, che con un'ironia terribile ha tratto da un libro anche lo spettacolo teatrale. Io ho visto recitati da altri alcuni di questi brani, quindi ne abbiamo inseriti quattro. E sono di effetto. Che sono molto di effetto, perché sono tragici, ma nello stesso tempo ti fanno anche sorridere. Poi un pensiero verrà rivolto proprio alle donne dell'Afghanistan, sulle che stiamo dimenticando. Sarà letta anche una poesia, lasciatemi gridare. Due parole, due, su un'altra forma di violenza di cui non si parla quasi più da noi. Le mutilazioni dei genitali femminili delle bambine. Ma proprio due parole, perché le varie associazioni le ricordano. Sarà letto l'appello del nostro segretario generale, Giorgio Bizzarri. E il sindaco ci ha promesso la sua presenza. Deve solo scendere giù, devo dire. È comodo, diciamo. Ok, ci fermiamo un attimo, perché abbiamo un'altra telefonata in linea. E poi continuiamo con la carrellata, perché sono veramente tante le iniziative organizzate in Piemonte. E allora sentiamo il telespettatore. Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Ivrea. Sì, prego, ci dica. Sì, una domanda ai signori. Perché riguarda le pensioni, praticamente la mia moglie ha 72 anni. Sì. Precipeva prima le pensioni sociali, poi io, a risultato a prete, si doveva e cimila. Però mi da tabella, mi sembra che c'è anche le pensioni parziali, che non superiamo le 14 mila. Ha il diritto o non ha il diritto delle parziali? No, non ho capito bene. Sua moglie ha 62 anni? 72 anni. 72 anni. 72 anni. Sì, allora, il problema è, l'assegno sociale viene pagato, se il coniuge ha meno di 11.600 euro di reddito, l'assegno sociale viene pagato in un modo ridotto. Sì. Per cui, bisogna vedere i redditi che lei ha, in base ai redditi. Come? Io 12 mila euro d'orve all'anno. Eh no, 12 mila la moglie non ha diritto. Anche parziali? Eh no. Se lei avesse 11 mila, la Previdenza gli darebbe 600 euro l'anno diviso 12. Fino ad arrivare a 11.600. Esatto, agli 11.600. Visto che lei a 12 mila supera già il limite, per cui purtroppo non può averla neanche ridotta. Ridotta, sì. Sì, vuole fare un'altra domanda, prego. Sì, è un'altra domanda a chi lei ha 10 anni di lavoro. C'è quella legge, mi sembra 300 o qualcosa, perché riguarda 50 anni contributivi all'età di 71 anni. Può chiedere praticamente le attenzioni? Ah no, allora, noi l'abbiamo detto mille volte, CGL, Cisle, Will, è anni che chiediamo che le contribuzioni che non raggiungono il massimale per andare in pensione, cioè i 20 anni o i 15 anni prima del 92, gli venga almeno pagata la quota versata da queste persone. Per cui vorremmo recuperare come sua moglie che ha 10 anni, però questa roba qui nessuno sente, hanno le orecchie tappate, per cui purtroppo chi non arriva ai 20 anni non ha diritto a niente. Sì. Purtroppo mi spiace continuare a dire questa cosa qui, però... Vanno, diciamo, in solidarietà. Sì, però incominciano ad essere tante le famiglie che hanno spezzoni di contributi non utilizzati, per i quali qualche denaro potrebbe arrivare anche in aiuto alle famiglie. Certo, assolutamente, perché abbiamo visto che il Signore è proprio al limite. Eh, infatti, per cui il problema è però purtroppo... ...del tetto imposto dalla legge. Purtroppo non posso dire niente di più. La ringraziamo e la salutiamo. Grazie anche a voi. Buonasera, continui a seguirci. Buonasera. E riprendiamo allora con le iniziative da Villanova d'Asti. Vi direi subito a Villanova d'Asti, qui per fortuna al coperto, non ci dobbiamo preoccupare, in un incontro con l'autore Riccardo Fassone, che ha scritto con le ali di Icaro. Poiché l'argomento è il bullismo, ci saranno anche ragazzi delle scuole medie, elementari, la dirigente scolastica, ma soprattutto abbiamo trovato le autorità locali entusiaste di partecipare. Sindaco, comandante dei carabinieri. In ultimo, non l'avevano neanche messo in locandina perché in ultimo ieri proprio si è aggiunto anche il parroco che c'è chiesto di intervenire. Perché in effetti lì non è solo parlare di violenza, lì è il sindacato che è presente sul territorio, perché lì ci sono stati dei bruttissimi episodi di bullismo che sono prodotti. Supersone anziane. Supersone anziane, di ragazzi giovani su persone anziane che vivono da sole. La notizia è arrivata anche sui giornali, quindi la comunità è piuttosto colpita e noi vogliamo esserci. Quindi anche il sindacato vuole dare il proprio segnale. Vogliamo esserci, abbiamo visto che ci tengono. FNP a Cuneo, a Cuneo prosegue, lì ci sarò anch'io domani, a Garesio, perché Cuneo fa una panchina al mese. Esatto, è venuta anche la segretaria Alina Simonetti a presentare l'iniziativa. Quindi ne ha già parlato e domani saremo a Garesio anche lì con autorità locali, quindi richiamiamo l'attenzione in abbondanza. Questo progetto appunto di adottare una panchina al mese per sensibilizzare in tutta la provincia, con la panchina rossa, l'impegno quotidiano contro tutte le forme di violenza, in particolare la violenza sulle donne. Ha avuto molto successo perché sono riuscite a coinvolgere molte autorità locali, anche le scuole, quindi coinvolgere molte persone. Poi abbiamo a Novara, a Novara ci scostiamo un pochino di qualche giorno, ma perché in questi giorni hanno il congresso. Poi c'è il congresso dei pensionati del Piemonte Orientale. E quindi danno uno spazio alla nostra coordinatrice di genere che ha presentato anche una locandina, qui l'abbiamo vista sfidare. Poi a Novara, 700 anni di Dante, c'è anche lì un incontro con l'autrice Marrazza che parlerà Gemma e le altre. Quindi qui è proprio focalizzato non su Dante, ma sulla moglie di Dante e le altre donne che ha incontrato. Quindi parliamo di noi. E direi che con questo abbiamo fatto una panoramica, anche se veloce, delle nostre iniziative. Poi proseguiremo, speriamo. Il fatto che sono tante però testimonia davvero quanto la FNP e il coordinamento di genere, ma la FNP tutta e tutta la CISL, siano molto attente su questo tema. Certo Stefania, quello che mi ha colpito anche molto in queste sedi è come non ci sia stata difficoltà a chiedere alle autorità locali di partecipare. Quindi vuol dire che stiamo sensibilizzando le istituzioni, gli interventi, eccetera. Sì, veramente tutti dalla stessa parte. Tutti dalla stessa parte, tutti remando nella stessa direzione. Adesso non so se... Diciamo, abbiamo fatto un po' la carrellata delle varie iniziative. Che cosa occorre però davvero fare? Al di là di cerare ovviamente la ricorrenza perché è importante, ma come abbiamo visto un solo giorno non basta. Bisogna davvero che diventi un impegno quotidiano. Beh, secondo me, ma secondo tutti noi, occorre un investimento economico, sociale e culturale per fare prevenzione. In primo piano l'educazione, quindi anche questo coinvolgimento delle scuole io l'ho trovato significativo. Non è solo casuale. L'educazione, il rispetto dei diritti delle donne e anche rispettare l'inclusione, cioè favorire l'inclusione verso le donne rifugiate. Non sono degli oggetti, non sono dei pacchi postali. Dobbiamo impegnarci. Poi, investire anche sui servizi della comunità, investire su questi centri antiviolenza. Spesso abbiamo centri in cui operano soltanto delle volontarie. E quindi anche lì qualche soldino in più lo dobbiamo mettere. Aumentare anche i fondi a disposizione per il reddito di libertà. Anche c'è ancora da dire che il codice rosa, Stefania, il codice rosa se ne parla poco, ma è un codice per un percorso particolare per l'accesso al pronto soccorso, riservato alle vittime di violenza. C'è un percorso donna, che serve quello rosa veramente, e un percorso per le vittime di reato di odio. In alcuni ospedali è stata allestita anche, anche lì noi abbiamo contribuito come associazioni varie, la stanza rosa. C'è una stanza che per una notte, eccetera, accoglie la donna. Spesso mi dicevano queste presidentesse di associazioni, ci sono donne che scappano di casa in ciabatte, vestaglie, con un bambino. Quindi varie associazioni si impegnano al volontariato. Devo dire che in Italia è molto attivo, arriva anche dove non arriva lo Stato. Abbiamo fatto anche delle iniziative per consegnare dei kit di biancheria intima, dei kit per i bambini. Le cose di prima necessità. Le cose di prima necessità per una donna che scappa di casa, a volte nel cuore della notte, perché queste sono cose drammatiche, veramente. Assolutamente. E nel PNRR qualcosa è previsto su questo piano? Sì, qualcosa è previsto, è trasversale, però a detta di tutti, non solo nella sottoscritta che non conta nulla. Anche in Bari, sono andate a vedere anche i ragionamenti della Linda Laura Sabatini, la ricercatrice dell'Istat, stata ex direttora dell'Istat. Riteniamo tutti che sia ancora poca cosa. Purtroppo occorre impegnarsi di più. Anche se nella missione 5, dove si parla di inclusione, anche questo tema sicuramente... Sì, è un percorso trasversale da cercare, in pratica bisogna cercare, nei percorsi di inclusione, ma anche nei percorsi dove si investe in salute. Perché Stefania, non dimentichiamoci, ad esempio, che noi anziane siamo quelle che più hanno bisogno del socioassistenziale. Perché noi donne, adesso qui, Melelli non ti arrabbiare, ti dico che noi donne viviamo qualche anno più a lungo di voi, la statistica lo dice. In genere abbiamo sposato, noi della nostra generazione abbiamo sposato uomini con qualche anno di più, quindi viviamo qualche anno in più, ma male. Perché ormai ci sono statistiche al riguardo, a parità di età, quindi, che so, a 74 anni, le donne hanno degli acciacchi in più rispetto agli uomini. Anche se viviamo più a lungo, viviamo qualche acciacco in più. Per di più assistiamo, facciamo tutti gli scongiuri, sono ammessi, assistiamo magari il marito, il compagno che ha 5 o 6 anni, 7 o 8 in più, e poi rimaniamo da sole nel momento in cui abbiamo bisogno dell'assistenza. Ecco quindi che nel PNRR i fondi in cui si parla di assistenza domiciliare, il potenziamento dell'assistenza domiciliare, su quale il sindacato noi ci siamo molto impegnati, verrebbe ad avere una precisa valenza per le donne. Assolutamente. È molto importante proprio perché si vivano gli ultimi anni a casa propria. Fondamentale. Assistiti. Il più lungo possibile a casa, con il supporto proprio di una rete di assistenza e di servizi anche sanitari a domicilio, in modo che le RSA, le strutture sanitarie, stiano veramente la soluzione per i casi più gravi. Poi abbiamo visto Stefania che con questa pandemia, di fatti, le strutture hanno denunciato, hanno dimostrato che in un periodo di pandemia ci sono dei problemi maggiori. Anche per quanto riguarda la sicurezza. Ho letto che non vanno più a ricoverarsi. Sì. Mancano ricoveri. Sì, mancano ricoveri. Adesso la gente ha paura, quindi tendenzialmente la si mantiene proprio come ultima soluzione. Io ho sentito proprio famiglie che dicono, ma io lo vado a portare il familiare lì e poi chiudono di nuovo stessalatura. Sì, magari non ci si può vedere. Non lo vedo più. In effetti è disumano avere poi una persona anziana isolata. Quello che è successo nel periodo della pandemia è stato brutto. Non deve più ripetersi assolutamente. A questo punto noi abbiamo esaurito al tempo a nostra disposizione per questa sera. Ringrazio tantissimo Carmen Sofragno per essere stata con noi. Grazie a voi. Speriamo di averla di nuovo presto qua in trasmissione. Ringraziamo anche Melelli per le risposte ai nostri telespettatori, tutti voi che ci avete seguito da casa e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Buona serata. Buona serata.